Come i social media stanno cambiando le tecniche di customer engagement, ossia tutte quelle pratiche apportate dalle aziende che vogliono coinvolgere il cliente e interagire con il consumatore? La comunicazione delle imprese si è evoluta, non è più di tipo unidirezionale ma bidirezionale. Oggi servono interazione, comunicazione, scambio di idee ed opinioni. A richiedere un rinnovamento di queste tecniche è stata la nascita dei social media. Con i social infatti è stato possibile ripensare e modificare le pratiche di customer engagement e raggiungere ed entrare in contatto con i clienti si rivela più immediato ma non per questo più semplice. Del social network e dell'importanza che hanno oggi si è parlato a Bari nel corso di un incontro organizzato da ConfCommercio BariBat al quale è intervenuto anche Sergio De Luca, direttore centrale della comunicazione e immagine di ConfCommercio che spiega come oggi non ci si può sottrarre all'utilizzo degli strumenti social per svolgere una qualsiasi attività imprenditoriale. Ormai non c'è più impresa senza distinzione di dimensione né di settore che non ricora all'uso dei social per promuoversi e per promuovere i suoi prodotti. Per le rappresentanze la cosa è un pochino più complicata perché da una parte abbiamo la cosiddetta politica liquida, dall'altra la distrutturazione dei partiti e, fatemi fare questa battuta, il mainstream non esiste quasi più. Quindi le persone, i cittadini, i consumatori, gli elettori come prima fonte hanno i social. Quindi paradossalmente dobbiamo fare controinformazione. Quindi il principio è integrare i vecchi strumenti, giornali e televisioni che ancora godono di grande autorevolezza e soprattutto certificano le notizie con i social che vanno comunque usati però con efficacia e soprattutto sapendo che non coprono tutti i pubblici di riferimento.